ecco qua buongiorno cari amici di appunti di viaggio oggi siamo sono nel comune di morano calabro sul pollino praticamente e per pranzare siamo fermati qui all'agriturismo colloreto ma vediamo prima facciamo una breve visita poi vediamo che cosa si mangia ecco qua amici qua praticamente si può dormire quindi è una zona con le residenze quindi si può dormire al fresco e ma ci spostiamo al vecchio monastero che sta qui sopra ecco qua ecco amici siamo arrivati in contatto visivo con questo monastero importante qui sotto ci passa l'autostrada e ci vogliono dieci minuti c'è un sentiero impervio ma diciamo accessibile ecco qua siamo proprio al primo scorso di questo monastero di colloreto ecco qua 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 la vista mozzafiato dall'alto del monastero di colloreto le antiche mura vedete stanno qui ecco l'autostrada si vede chiaramente sullo sfondo eccola lì ecco qua si tratta di luoghi straordinariamente evocativi difficili da raggiungere ma straordinariamente evocativi c'è molto bello oggi fa tra l'altro fa molto molto caldo però il posto è veramente bellissimo ecco amici pochi minuti di meritato riposo un ciao dal monastero di colloreto ecco come vi dicevo prima non è semplicissimo da raggiungere però si può fare ecco qua cari amici come tutti quelli normali a un certo punto dobbiamo pure mangiare e quindi ci siamo fermati qua all'agriturismo colloreto che sta qua poi lo troverete sicuramente su internet che siete bravissimi a fare queste cose aria buona prodotti locali filiera corta eccetera eccetera mo pranziamo a dopo ciao ecco qua antipastino con vino locale il vino l'ho già assaggiato ed è un capolavoro la verità ecco qua ciao 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 Grazie a tutti